buonasera a tutti allora avevo fatto un video prima ma ho preferito rifarlo adesso riguardo al murales che l'inter aveva fatto per i 110 anni della sua storia molto bello e naturalmente ci deve essere sempre qualcuno che va a rovinarlo d'altronde avevano rovinato la stele che avevano fatto per l'egnerrera in piazza regnerrera volete non rovinare il murales che l'inter ha fatto per i 100 anni 10 anni di storia no assolutamente perché farsi mancare anche quello sentivo tanti pareri tutti indignati milanisti giustamente indignati perché anche loro essere associati a certi atti vandalici non gli piace visto e considerato che ormai il derby c'è una sorta di rispetto reciproco tra le due tifoserie che si prendono in giro tutto quello che volete però è successo un anno che una delle due tifoserie non poteva mettere fare la coreografia per questioni varie che gliel'ha impedito la questura quello che era e l'inter per rispetto se non sbaglio non la fece neanche non la fecero neanche loro eccetera quindi ci sono queste piccole tra virgolette gentilezze che si fanno l'un con gli altri pur restando una sana rivalità sportiva molto forte e quindi tutti questi gesti tutte queste cose non fanno altro che rovinare la bella figura che le due tifoserie stanno avendo da tanti anni sono tanti anni che non succedono disastri o cose simili nei derby c'è il sano sfottò che c'è sempre stato che ci deve essere ci mancherebbe se è sano lo sfottò è sempre bello carino uno ci ride sopra purtroppo poi c'è sempre qualcuno che vuole andare oltre le linee ahimè l'educazione continua a essere più rara e quindi ma forse anche colpa del dei genitori e della scuola contemporaneamente perché forse quando andavo all'elementare io i nostri genitori l'educazione ce la insegnavano anche a suon di schiaffoni e il mio maestro senza usare le maniere forti non le ha mai usate in vita sua però con le parole sapeva bene inculcarci il senso civico e quant'altro adesso si vede che le cose sono cambiate manca quello manca la cultura sportiva non ce l'abbiamo mai avuta io mi ricordo negli anni 80 si tifavano sempre le squadre italiane in europa poi in italia ci si prendeva per i fondelli tutto quello che volete però io fino alla fine degli anni 80 ho sempre tifato per le squadre italiane in europa poi sarà che il milan ha cominciato a vincere troppe sarà che poi dopo ci rinfacciavano il fatto che le vincevano e capite che diventa un po più difficile tifare per una squadra che poi dopo se vince ti viene lì a fare io vinto sai se uno si tiene la sua vittoria non te la viene a rinfacciare uno lo ti fa anche volentieri se uno ti viene a prendere in giro e tu l'hai anche tifato ti senti un po fesso e quindi praticamente dagli anni 90 in poi diciamo che certe squadre in europa le gufavi io ripeto le gufo solo in finale perché farle prima non mi dà alcuna soddisfazione però è normale cioè sana rivalità sportiva ci sta poi se vincono complimenti a loro spiace che tutti questi gesti facciano solo del male sia ai veri tifosi delle due squadre quelli veri quelli sanguigni quelli che amano il calcio ma non lo sfottò e si fermano lì e rovini per colpa di pochi quello che si era costruito fino adesso da tanti anni spiace ripeto ma ahimè un po me l'aspettavo quando ho visto il murales che l'inter aveva fatto detto tempo zero faranno qualche disastro è puntualmente arrivato d'altronde ripeto l'hanno fatto con la stella di elenio herrera nella nel giardino che hanno fatto vicino allo stadio temo che l'abbiano fatto anche con con l'altro piazzale forse no meno male però ripeto sono cose che ahimè c'è sempre qualcuno che deve andare sopra le righe adesso vediamo se scoprono chi è stato e cosa sceglieranno di dargli come punizione vedremo ciao anche se è un ciao molto molto triste guardate molto triste ciao 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 ciao